Il parco Costa dei Trabocchi c'è sulla carta ma non si vede, si vedono invece le iniziative che rendono il territorio costiero teatino una sorta di parco di fatto. L'ultima in ordine di tempo è stata presentata oggi presso la Salla Rossa della Camera di Commercio Chieti Pescara. Al Foro Boario si è parlato del processo di costruzione della destinazione turistica Costa dei Trabocchi, un progetto che vede impegnati il neonato GAL Costa dei Trabocchi e la stessa Camera di Commercio. Da un punto di vista ambientale si lavorerà all'interno del contratto di costa per migliorare la qualità delle acque, per la qualità della terra, ma poi si lavorerà tutti assieme per dare un'identità unitaria di tipo turistico al territorio della Costa dei Trabocchi. La principale motivazione di vacanza sia dei turisti italiani che esteri in Italia, parlo del 38%, è l'enovastronomia. Poi c'è l'aspetto sportivo, sportivo-amatoriale parliamo fondamentalmente, che sta crescendo tantissimo e con una velocità impressionante, è passata dal 4 al 20%. Proprio tra l'altro il 26 di marzo, come presidente di ISNART, che è questa società di Camera di Commercio italiana, si occupa di turismo e cultura, presenteremo il primo rapporto italiano sull'economia della bicicletta. Costa dei Trabocchi è un'affermazione. Se non reca con sé una serie di contenuti, che sono la pista ciclabile, l'uso della pista ciclabile, l'identità visiva del territorio delle coste dei Trabocchi, l'offerta enovastronomica, l'offerta di servizi, la motivazione della vacanza e l'esperienza. Quindi, riuscire a costruire l'esperienza è l'obiettivo che noi ci stiamo ponendo, assieme con tutti i comuni, con la Camera di Commercio, il FLAG, le associazioni di vario tipo che esistono sul territorio, per arrivare a costruire l'emozione della Costa dei Trabocchi. Noi stiamo portando avanti da alcuni mesi il contratto di costa. C'è stata una sottoscrizione preliminare tra i vari attori che compongono il contratto. Questa iniziativa si inserisce nel calendario del contratto, cioè sostanzialmente ogni soggetto che opera su questa destinazione Costa dei Trabocchi si ritrova all'interno del tavolo del contratto per condividere insieme agli altri che possono dare una mano, come in questo caso Camera di Commercio, affinché il tutto avvenga in modo concertato, cioè non si sovrappongano le iniziative.